Invidia per le donne e disprezzo per gli uomini. Ecco l'identikit della narcisista maligna che cercherà di sedurre il tuo marito, il tuo compagno. Allora, in questo video voglio parlare di questo tema. Prima però iscriviti al canale e seguimi sulla pagina Instagram Massimo Teramasco e ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare e abbonarti è facile, basta andare nella home page, tastina abbonati, vicino a tastina iscriviti e poi, diciamo, trovare l'abbonamento che preferisci. Ma veniamo al tema. Invidia per le donne e disprezzo per gli uomini. Ecco l'identikit della donna narcisista maligna che ti sedurà il compagno o il marito. Allora, vediamo un attimino. Le donne narcisiste sono animi inquiete che spesso fingono di essere donne romantiche, donne intransigenti, capricciose, ambivalenti. Da un lato, diciamo, si mostrano come la madre salvifica, piena di premure verso i figli. In realtà, questi poveri figli li distruggono e se ci sono, vengono su pieni di complessi, incapaci di gestire la loro vita. Con questa madre, se sono femmine, tenderanno, diciamo, ad avere comportamenti magari eccessivamente mascolini, se sono maschi, hanno dei comportamenti, diciamo, non propriamente interessanti, ma pieni di fragilità. Ma comunque, al di là di questo, sono donne che da un lato seducono gli uomini sessualmente per... ma di fatto li disprezzano fondamentalmente. non si innamorano, ovviamente, non si innamorano mai. Cercano di sedurre uomini sposati perché così ottengono un doppio vantaggio. Da un lato, diciamo, soddisfano il fatto di aver portato via un uomo o una donna perché questa è la loro massima soddisfazione. E dall'altro che cosa fanno? Diciamo che dopo un po' lasciano anche lui, no? soprattutto quando si rendono conto che è coinvolto tendono a lasciarlo per punirlo, tra virgolette, perché vivono un forte disprezzo per per il maschio. Diciamo che inizialmente si possono anche presentare come persone, diciamo, interessate a un uomo libero, ma poi di fatto spesso vanno alle ricerche di uomini di uomini sposati e hanno la capacità di conquistare perché si modellano un po' sulla personalità del maschio a fine di conquistarlo. Sono camaleontiche, eclettiche, riescono a mostrarsi, diciamo così, al meglio di se stesse anche se normalmente molto trasgressive. e quando il partner si inizia a coinvolgere diventano delle streghe, tra virgolette, perché si infuriano, accusano, recriminano, svalutano, si lamentano, richiedono attenzioni, richiedono prove d'amore e soprattutto attribuiscono ogni causa delle cose che non funzionano al maschio che non può soddisfarla perché non è alla sua altezza, che non è sufficientemente intelligente, questo è un po' il modus operandi e soprattutto quando seducono un uomo sposato poi fanno di tutto per far sì che questo uomo sposato è impegnato diciamo all'idea del tempo libero a discapito della sua famiglia ma in realtà lo seducono loro e cercano in qualunque modo di lasci seminare tracce dal banale mettersi pieni di brillantini addirittura arrivare a scrivere messaggi su messenger nel senso che magari lui può anche far finta a dire che non è impegnato che magari ma loro fanno finta di crederci però poi scrivono alla moglie in modo tale da creare gli casini ma questo non per amore ecco la cosa interessante è che una donna potrebbe farlo per amore una volta queste lo fanno in modo seriale lo fanno in modo seriale con tantissimi partner e rovinano tantissime famiglie vanno a seminare dei zanni d'altra parte spesso loro hanno avuto anche una famiglia rovinata soprattutto se hanno trovato un uomo o un marito che poi si è reso conto che erano delle grandi zoccole e fortunatamente se ne è tolto dai coglioni se ne è tolte dai coglioni e quindi loro questo non lo accettano spesso si lamentano comunque come caratteristiche hanno l'egocentrismo cioè la tendenza a stare a voler essere al centro dell'attenzione vanità eccessiva la donna narcisista è convinta di essere una persona speciale e che per questo si merita di più delle altre donne soprattutto in termini di riconoscimento ed apprezzamento sia dal punto di vista affettivo sia dal punto di vista diciamo fondamentale hanno un idealismo e un romanticismo estremo cioè pretendono praticamente ma non danno fondamentalmente la caratteristica è questa hanno una scarsa sensibilità la donna narcisista appare attenta e sensibile verso l'alto ma fingendo in realtà la sua attenzione è mirata solamente a tenere un vantaggio personale e questa apparente empatia c'è in realtà la totale incapacità di comprendere e provare affetto verso l'altra persona hanno la tendenza a fare paragoni a fare paragoni rispetto ad altre donne e hanno una diciamo paranoia del voler apparire bella a tutti i costi spesso sono delle cesse e allora quando sono delle cesse perché magari sono un po' grosse non so un po' mascoline le ossa grosse coscia grossa cercano in tutti i modi di migliorarsi attraverso magari il bodybuilding estremo talvolta diciamo utilizzando anche i prodotti cioè tendono proprio a voler ottenere delle cose non rendersi conto che in realtà poi magari peggiorano anche la situazione però comunque hanno questa sessualità anche predatoria hanno altra caratteristica una tendenza paranoide la donna narcisista ha diciamo come dire la sensazione che tutti la invidino che tutti stiano tramando alle sue spalle che tutti siano stati o siano ingrati con lei e che invece pensano che lei sia una persona leale disponibile sincera gli altri sono sempre poco limpidi malevoli o ingiusti nei suoi confronti mentre invece lei è la poverina che è stata diciamo presa in giro quando in realtà è esattamente il contrario quindi queste tendenze paranoidi proiettive a diciamo proiettare sugli altri quelli che sono loro è esattamente una delle caratteristiche fondamentali tendono diciamo a idealizzare gli altri all'inizio e poi li svalutano la donna narcisista parte da un'idealizzazione dell'altro del maschio e poi lo svaluta e infatti li cambiano sempre diciamo che le donne narcisiste hanno sempre 4-5 se sono particolarmente zoccole riescono proprio anche a avere più rapporti sessuali nella sua giornata proprio diciamo in funzione di spregio del maschio fondamentalmente non rendersi conto che poi in realtà lo sfregio lo danno verso se stesse quindi hanno una tendenza diciamo alla critica e alla svalutazione del maschile si lamentano del fatto che magari hanno ruoli sposati hanno relazioni con uomini sposati ma in realtà li cercano e comunque vanno anche se non sono sposati vanno magari alla ricerca dell'ex di quella persona per andare a seminare comunque zizzagne perché il loro obiettivo è rompere i coglioni al maschio e anche rompere i coglioni alle donne insomma seminare zizzagne sono persone che spesso oltre ad essere narcisiste fanno anche parte della triode oscura cioè sono borderline diciamo così sono diciamo hanno una malattia mentale fondamentalmente un'ossessione hanno qualche ossessione talvolta ci sono dei comportamenti o shopping compulsivo o talvolta cibo compulsivo o talvolta esattamente il contrario passano da che si mangiano quattro pizze una volta sola a che fanno diete diciamo a che fanno diete ferree sballate e quindi hanno un po' questa caratteristica quindi la malattia mentale diciamo così è quella che le diciamo è quella che le caratterizza l'infanzia è dovuta magari a situazioni che hanno avuto anche molestie magari a situazioni di diversa natura ma poi di fatto sono diciamo persone che al di là dell'infanzia che hanno avuto che ognuna quella che è hanno proprio insito diciamo così il germe del male al loro interno fondamentalmente anche chissà per quale motivazione quale retaggio anche di vite precedenti se sei in una relazione con una partner che sospetti che sia narcisista e che ha un po' queste caratteristiche l'unica possibilità è quella di mandarla a fanculo di troncare e diciamo di toglierla dai coglioni perché sono veramente fortemente distruttive se sei una donna occhio perché se magari è una tua amica o magari è una persona che conosci o che sei relazionata con tuo marito occhio perché farà di tutto per come dire sedurre sessualmente il tuo marito e poi però non soltanto quello ma distrugge la tua relazione bene per questo video è tutto condividilo con i tuoi amici iscriviti al canale seguimi su Instagram su TikTok e ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare abbonando ti potrai scegliere tra diversi livelli di abbonamento abbonamento live per partecipare alle live abbonamento base con lezioni mirate abbonamento top con lezioni mirate videoregistrazioni seminario del vivo ciao a tutti